Si è concluso a Casorate Primo il ciclo di incontri itineranti del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, organizzato dalla Prefetta Francesca De Carlini. L'obiettivo della Prefettura è consentire a sindaci, amministratori locali e forze dell'Ordine di sedersi attorno a un tavolo e condividere strategie per limitare furti, rapine e altri reati sul territorio. Nel corso degli incontri, la Prefetta ha anche condiviso alcune riflessioni sulle logistiche presenti in provincia, sottolineando la necessità di assicurare un bilanciamento tra sostenibilità, occupazione e ordine e sicurezza pubblica. Intanto le attività di controllo del territorio non si fermano. Nelle scorse ore i carabinieri hanno arrestato, nelle campagne attorno a Inverno e Monte Leone, un pregiudicato 26enne di origine marocchina e regolare sul territorio nazionale. Il giovane è stato sorpreso in una zona di spaccio e bloccato dai militari, mentre un suo complice è riuscito a darsi alla fuga. Con sé aveva oltre un chilo di droga, tra eroina, cocaina e hashish, già suddivise in dosi, il materiale per il confezionamento e un coltello a serramanico. Il 26enne si trova ora in carcere a Torre del Gallo con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio e di sostanze stupefacenti.